Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale parte con l'evoluzione della grave crisi americana. I democratici pronti a votare al Congresso l'impeachment per il Presidente Trump negli ultimi giorni del suo mandato. Ne mancano nove all'Inauguration Day del 20 gennaio, quando al suo posto si insedierà Biden, ma la gravissima crisi istituzionale e di tensione politica non accenna evidentemente ad attenuarsi. Poi andremo ai fatti di casa nostra, dove pure di crisi si parla ormai apertamente, la crisi di governo che potrebbe intervenire subito dopo il passaggio in consiglio dei ministri del testo del Recovery Fund. Subito dopo, secondo quanto par di capire, si dimetterebbero le ministre Bellanova e Bonetti di Italia Viva e si aprirebbe di fatto la crisi di governo. Questo perché è stato probabilmente il Quirinale a imporre che comunque si mettesse in sicurezza quel piano fondamentale che poi dovrà comunque essere discusso e votato dal Parlamento prima di andare al confronto definitivo, alla verifica definitiva dello Stato di salute della maggioranza. A questo proposito vedremo, ritornano oggi i nostri sondaggi del lunedì, in cui non si parlerà soltanto di come andrebbe se si votasse oggi, ma anche dell'atteggiamento degli italiani di fronte alla vaccinazione. Ebbene, il numero di coloro che non vorrebbero vaccinarsi si è drasticamente ridotto ed è sceso a un quarto dei cittadini in grado di essere vaccinati. Non solo, un'ampia maggioranza assoluta è a favore dell'obbligo vaccinale. Questo si renderà necessario per superare i dubbi e la contrarietà di una porzione dell'opinione pubblica, in modo da poter arrivare alla cosiddetta immunità di gregge. E poi andremo a vedere anche però che sul fronte proprio della lotta contro la pandemia i numeri di oggi non sono ancora sicuramente confortanti e quello che invece è sicuro è che si va verso un nuovo DPCM in cui le misure saranno ulteriormente precisate. Oggi un confronto non risolutivo tra governo e regioni e tra l'altro uno dei temi ancora sul tappeto è quello che riguarda la scuola e si allarga il fronte della protesta di studenti e insegnanti contro la totalità della didattica a distanza che rischia di mandare in malora un po' anche quest'anno scolastico. Ma come vedremo c'è anche un'altra vicenda che riguarda il fronte della pandemia. A Milano isolata con certezza la presenza del virus già all'inizio di novembre del 2019 in una giovane che aveva effettuato delle analisi per un problema della pelle. Quindi quella sarebbe questa giovane donna la paziente 1 evidentemente in una data che pone l'Italia di gran lunga come il paese europeo con la prima presenza del Covid. E poi torna Milena Gabanelli. Si parla dei rischi di inquinamento attraverso l'attività del web. È un tema scottante, tanto per cambiare. 30 secondi, i titoli. Formalizzata dai democratici al Congresso la richiesta di impeachment per Donald Trump ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni. L'accusa che si legge nel documento presentato a seguito dell'assalto dei manifestanti repubblicani a Capitol Hill in cui sono morte 5 persone. La richiesta che ha già raccolto oltre 200 firme potrebbe decadere solo se il vicepresidente Mike Pence deciderà di ricorrere al 25esimo emendamento per la rimozione di Trump. Meno di 24 ore per decidere. Conte convoca per domani sera il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare il piano del recovery fund in un clima tesissimo. Dobbiamo correre, dice il Premier, alla vigilia una riunione che si prevede incandescente con Italia Viva sempre più decisa ad aprire la crisi. Dopo il varo del recovery che viene richiesto dal Quirinale le ministre potrebbero lasciare Renzi a Verde e senza risposte restituiamo le poltrone. Il nostro sondaggio del lunedì non premia per usare in un eufemismo le forze di governo come vedremo, ma abbiamo anche testato l'opinione degli italiani sulla vaccinazione anti-Covid. È sceso di molto il numero dei contrari mentre più della metà degli intervistati è favorevole all'obbligatorietà sull'andamento della vaccinazione. Invece il paese è diviso a metà. È ancora forte la circolazione del virus oltre 12.500 contagi il tasso di positività risale al 13,6% e sempre molti morti, 448. Da sabato prossimo scatteranno le nuove misure nessun allentamento l'Italia continuerà a essere divisa in fasce di rischio ma i parametri sono stati cambiati e basterà l'R con T a 1,25 per finire in zona rossa. Non risolutivo il vertice di oggi tra governo e regioni ancora divisi sulla scuola. Oggi tornati in classe soltanto 250.000 studenti delle superiori. Il Covid-19 arrivò in Italia già nel novembre di quell'anno il 2019 e non in dicembre come fino a questo momento era stato documentato. Sulla base di una ricerca effettuata all'Università Statale di Milano il nuovo paziente 1 è una giovane milanese di 25 anni la cui positività è stata riscontrata a seguito della riverifica della biopsia sulla sua pelle effettuata il 10 novembre del 2019. Sono molti gli aspetti della nostra vita che la pandemia ha cambiato tra questi l'approccio al digitale smart working videoconferenze didattica a distanza acquisti online sono solo alcune delle attività che abbiamo imparato a conoscere molto bene dando così una decisa accelerazione all'utilizzo del digitale. Ma quanto impatta questo nell'inquinamento dell'ambiente? È il tema che sarà trattato nel bentornato data room di Milena Gavanelli. Buonasera, molti fatti ma come avete visto abbiamo deciso di aprire perché quello è un evento che riguarda tutto il mondo e che riguarda anche noi neanche troppo indirettamente la sorte di Donald Trump quella è come presidente degli Stati Uniti già stata decisa il primo martedì di novembre dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti ma può accorciarsi ancora la presenza di Trump alla Casa Bianca perché a questo punto è praticamente quasi certo che la procedura di impeachment sarà accelerata nei suoi confronti Se non ci penserà il vicepresidente Mike Pence a rimuovere Trump nelle prossime 24 ore i democratici americani inizieranno una procedura di impeachment per incitamento all'insurrezione la richiesta è già stata formalmente presentata ecco il documento di quattro pagine che ovviamente fa riferimento all'assalto al congresso del 6 gennaio scorso l'atto potrebbe essere votato dalla Camera già dopo domani le accuse partono dalla falsa e autoproclamata vittoria di Trump contro Biden alle pressioni sulle autorità della Georgia per ribaltare in quello stato l'esito del voto fino al punto più basso il comizio in cui il presidente uscente ha esortato la folla alla rivolta e all'attacco di Capitol Hill così come poi è accaduto secondo il sito politico Nancy Pelosi si è già assicurata ai voti sufficienti almeno 218 deputati non solo democratici infatti hanno firmato la mozione per la messa in stato di accusa ovvero la maggioranza semplice quel che serve per approvare il provvedimento in attesa che poi vada al Senato la mossa dei democratici è arrivata dopo che i repubblicani si sono rifiutati di discutere oggi in aula una risoluzione che chiedeva appunto a Mike Pence di ricorrere al 25esimo emendamento che prevede la destituzione di un presidente perché unfit inadatto la mossa dei democratici una sorta di ultimatum al vicepresidente arriva a nove giorni dall'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden che da quel momento sarà con pieni poteri il 46esimo presidente degli Stati Uniti nove lunghi giorni come non mai dal punto di vista politico ma anche securitario Washington appare sempre più blindata la Guardia Nazionale con 15.000 uomini e donne è pronta a presidiare Casa Bianca congresso e maggiori istituzioni per garantire la sicurezza di un evento a cui parteciperà Mike Pence ma non Donald Trump l'ennesimo record il mancato passaggio di consegne infatti non si era mai verificato prima intanto la Corte Suprema ha respinto e senza neanche ritenere necessario diffondere la motivazione come di solito accade gli ultimi ricorsi presentati dai legali di Trump contro l'esito del voto in Pennsylvania una situazione grave incandescente su cui insiste poi anche la questione dei social che come si sa hanno silenziato definitivamente Trump aprendo un ulteriore dibattito in effetti nel mondo ci sono molte figure assai più discutibili di Trump che possono continuare a twittare a postare su Facebook che è probabilmente un accanimento che servirà soltanto a creare nuovi vittimismi e un lacerante dibattito su cos'è la libertà e se la dobbiamo delegare a soggetti pur sempre privati come sono i social network ma quello che conta evidentemente è il finale di partita politico e istituzionale di Trump e quello lo seguiremo nelle prossime giornate anche noi abbiamo un rischio imminente di crisi anzi la crisi a questo punto è molto probabile ne parlano come un'eventualità vicina un po' tutti i protagonisti nella stessa maggioranza di governo cosa succederà che sarà probabilmente domani sera o domani notte come usanza ormai dato il via libera al piano del governo sul recovery fund piano che poi deve essere discusso dal Parlamento questo è probabilmente ciò che ha suggerito anche il Quirinale dopodiché si potrà aprire la crisi l'annuncio arriva all'ora di pranzo il Premier Conte convoca per domani in serata al Consiglio dei Ministri che dovrà approvare il recovery plan dentro fuori tutto potrebbe decidersi in 24 ore dobbiamo correre lavoriamo per costruire il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposta ai cittadini la dichiarazione a fello mentre intorno fioccano dichiarazioni di ogni genere perché sul tavolo rimangono gli avvertimenti di Renzi e dei suoi nonostante l'invito spedito direttamente dal Quirinale al leader d'Italia Viva a fermare le macchine della crisi prima approvare il recovery plan da spedire all'Europa e solo dopo mettersi nel caso intorno a un tavolo per capire se ci sono le condizioni per continuare un invito che la pattuglia renziana respinge compatta fin dalla mattina in Italia il Presidente è un arbitro non dice a un dirigente politico quello che deve fare si mette di traverso Renzi dettando la linea pronto a regalarsi una crisi di governo nel giorno del suo compleanno dopo il leader vanno in trincea per tutta la giornata le ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti non è una questione di poltrone ripetono manca il piano quando ce lo fanno vedere attaccano nel giorno della presentazione del progetto da parte del Ministro Gualtieri ai capi delegazione un pressing che spinge Andreo Marcucci il capogruppo al Senato del PD un passato da Renziano di Ferro a pronosticare vita breve al governo Conte 2 questo governo ha meno di 10 possibilità su 100 di andare avanti la valutazione di Marcucci che però esclude la crisi e ipotizza il rimpasto che potrebbe arrivare con due modalità diverse Conte bis o ter politichese per dire che nel primo caso si sostituiscono i ministri senza passare da una crisi formale di missioni e nuovo incarico al contrario previste dalla nascita di un nuovo esecutivo modalità quest'ultima che si scontra con la diffidenza di Conte sui rischi di un bis allo stai sereno fatale a Letta i rapporti personali tra i due sono al minimo con Renzi pronto a rilanciare oggi la sfida aperta da Conte nella conferenza di Capodanno a contarsi in Senato le questioni legate all'ipotesi Conte e Ter sono inattuali in questo momento chi parla di crisi politica genera solo instabilità interviene il ministro 5 Stelle d'Inca le elezioni sarebbero una storica sconfitta per tutti il messaggio anche di Goffredo Bettini consigliere del segretario Zingaretti ma interlocutore ascoltato da tutte le parti in campo Renzi come Conte e i 5 Stelle l'unica maggioranza è quella attuale precisa il vice segretario PD Orlando no quindi al gruppo di responsabili come alla interlocuzione con le forze di opposizione per un governo di scoto ipotesi voci illazioni tutto è possibile almeno fino a domani certo ma in questo momento alle 8 passate della sera del giorno della vigilia del consiglio dei ministri è giusto dire che quello che appare più probabile è appunto quello su cui abbiamo anche titolato che anche sulla richiesta che è arrivato sulla pressione sulla moral suasion che è arrivata al Quirinale sarà messo in sicurezza il recovery plan che sarà votato dal consiglio dei ministri dopodiché ci sarebbe il ritiro delle ministri renziane e a quel punto inevitabile il passaggio di una crisi di governo con consultazione con il PD pronto a tenere l'ipotesi di un Conte Ter come la più probabile ma evidentemente con l'assenza di una certezza al riguardo dipenderà da quale sarà l'assetto che troveranno insieme le forze politiche ma se si votasse oggi come andrebbero le cose perché in questi giorni circolano anche le simulazioni se si andasse a votare con la nuova legge elettorale che di fatto risulta dal fatto che c'è stato come si sa un abbassamento del numero dei deputati e dei senatori per effetto della riforma voluta dal Movimento 5 Stelle e poi del resto è confermata dal referendum popolare cosa succederebbe allora e cosa succederebbe ci sarebbe un vantaggio per il centrodestra ma vediamo come si come andrebbero le cose se si votasse oggi secondo il nostro sondaggio state già vedendo che la Lega non avevamo il nostro sondaggio da tre settimane quindi il riferimento è al 21 dicembre nel precedente la Lega perde uno 0,2 al 23,2% ma ancora meno bene va al Partito Democratico che perde un 1% al 19,4% due punti e due sopra Fratelli d'Italia che guadagnando lo 0,5% va al 17,2% a sua volta due punti e mezzo sul Movimento 5 Stelle che riguadagna lo 0,4% al 14,7% meno 0,4% per Forza Italia al 5,9% mentre vedete azione di Carlo Calenda arriva al 4,1% più 0,4% dietro nella seconda pagina sinistra italiana al 3,8% più 0,2% 2,9% più 0,1% per Italia Viva 2,4% più 0,4% per i Verdi meno 0,3% al 2,1% per Più Europa 1,1% meno 0,2% per Cambiamo di Toti per effetto di tutto questo il centrodestra è nei voti di lista potenziali attorno al 47% per questo vi dicevo che le simulazioni se si votasse oggi se si votasse tra poco sono futte favorevoli soprattutto per i collegi uninominali al centrodestra e secondo le voci del Parlamento questo è un buon motivo per cui è molto improbabile che anche in caso di crisi ci sia il ricorso immediato allo scioglimento delle Camere ma già che ci eravamo abbiamo con SVG tastato il polso dell'opinione pubblica anche sui temi legati al vaccino e c'è un fatto importante eccolo qui i contrari alla vaccinazione anti-Covid dal 20 novembre quando erano il 37% al 18 dicembre quando erano al 34% sono ora scesi al 25% ovvero un quarto questo dato confortante fa vedere come la contrarietà al vaccino sia sempre minore ma ancora di più vediamo il successivo ritiene che la vaccinazione contro il Covid-19 in Italia dovrebbe essere obbligatoria sì 29% sì nel caso in cui molti cittadini si rifiutassero di vaccinarsi 30% per un totale di favorevoli o aperti all'obbligatorietà del vaccino del 59% no in nessun caso lo dice solo il 28% degli interpellati non saprei il 13% abbiamo forse ancora ecco l'andamento del piano vaccinale poco più di 10 giorni dall'abbia delle vaccinazioni lei ha l'impressione che il piano di vaccinazione in Italia stia andando molto bene 5% abbastanza bene 39% il 44% dice bene molto male o piuttosto male il 44% non saprei il 12% ma per dire il vero le cose stanno andando invece nel verso giusto gradualmente anche in quelle regioni si citano sempre la Lombardia e la Calabria che sono restate indietro e adesso semmai la nuova frontiera è quella delle misure le nuove misure nel DPCM che dovrà vedere la luce alla fine della settimana non ci sarà nessun allentamento nessuna concessione dopo il primo vertice tra governo e regioni le nuove misure scatteranno da sabato prossimo non cade nessuna restrizione l'Italia resterà divisa in fasce di rischio giallo arancione e rossa con il bianco che connoterà le regioni in cui l'RT è sotto lo 0.5 il livello di guardia al momento però di zone bianche non ce ne sono anche per questo nel giorno in cui restano arancioni solo 5 regioni Calabria Emilia Romagna Lombardia Sicilia e Veneto anche per le aperture ventilate nei giorni scorsi è arrivato un dietrofront nessuna mobilità tra le regioni nemmeno per quelle dello stesso colore chiuse palestre piscine e impianti scistici che speravano dopo mesi di attesa di poter riaprire impianti e attività resterà il coprifuoco tra le 22 e le 5 chiusi teatri e cinema ristoranti la sera aperti solo per consegna a domicilio e a sporto restrizioni che al momento sono state condivise anche dai governatori l'unico vero tema di discussione tra enti locali e governo è una nuova misura quella definita anti-movida e cioè il divieto per i bar di vendere dopo le 18 bevande cibo da sporto per evitare assembramenti sul punto alcuni governatori hanno espresso più di una perplessità se ne riparlerà giovedì il giorno del nuovo vertice ma 24 ore prima il ministro della salute speranza spiegherà al Parlamento il nuovo DPCM un DPCM che tiene conto di numeri ancora altissimi al di là delle oscillazioni causate dalla rilevazione avvenuta in un giorno festivo i contagi accertati ieri sono stati 12.532 ed è l'unico dato che cala gli altri crescono tutti con soli 91.600 tamponi processati sale l'indice di positività che tocca il 13.6% aumenta nuovamente anche il numero dei decessi che sfiora ancora una volta i 450 morti in una sola giornata dall'inizio della pandemia le vittime sono ormai quasi 80.000 non va meglio per quanto riguarda la pressione sugli ospedali dove i pazienti nei reparti Covid sono 23.600 più 170 rispetto a ieri e continuano a crescere anche i recovery in terapia intensiva più 27 in totale 2.642 persone prosegue intanto la campagna di vaccinazione domani sono attese in Italia nuove dosi del vaccino Pfizer-BioNTech mentre per la prima volta arriveranno le fiale del vaccino di Moderna e la vera questione che è ancora sul tappeto al di là della contingenza al di là dei decreti e perfino al di là della crisi di governo è la questione scuola come abbiamo detto a profusione non mi dilungherò ancora gli studenti e soprattutto gli studenti delle superiori e gli studenti universitarie sono stati assolutamente messi in secondo piano in tante scelte nella considerazione dei decisori politici ci sono gravi rischi sostanziali al di là dei voti degli esami delle pagelle ci sono seri rischi sulla sostanza di un anno scolastico che è nel congelatore che è di fatto nel congelatore di una didattica a distanza non sempre funzionante è per questo che tra l'altro sono in corso in buona parte d'italia proteste di studenti e di insegnanti era l'occasione questa anche con i recovery fund di dare priorità alla scuola al sistema sanitario non l'hanno fatto e a me questa cosa fa arrabbiare il tono di questo ragazzo esprime la rabbia di tutti gli studenti che ancora oggi non possono tornare in classe e per questo stamattina hanno manifestato qui siamo a Milano davanti alla sede della regione in Lombardia le scuole superiori dovrebbero riaprire il 25 gennaio sempre che la data non slitti ancora o che la regione non entri in zona rossa oggi la didattica in presenza al 50% è ricominciata solo in Toscana Bruzzo e Valle d'Aosta con il Trentino Alto Adige che ha già iniziato dal 7 250.000 studenti in tutto tutti gli altri governatori hanno fissato date diverse ma tutt'altro che certe e così se a Firenze si ricomincia organizzati con più di 300 autobusi strada e 150 volontari che gestiscono i flussi nel resto d'Italia è ancora tutto fermo con adolescenti che il primo anno di liceo lo hanno vissuto solo a distanza io non conosco la metà dei miei compagni ci siamo visti in Aula Magna tre volte poi hanno chiuso tutto non vi seguiamo più hanno scritto sui manifesti che a Roma hanno portato davanti al Ministero dell'Istruzione che può significare tante cose una rottura definitiva con la politica e le istituzioni o l'impossibilità di seguire ancora le lezioni da casa sembra quasi un paradosso che siano i ragazzi a voler tornare in classe ma non lo è affatto perché ora sanno cosa significa non potersi confrontare con i loro insegnanti o stare con i compagni senza contare tutti quelli che la scuola ha perso per strada chi vive realtà fragili o i 70.000 studenti disabili o i 300.000 senza computer o connessione internet a casa non è un caso che i ragazzi oggi abbiano voluto manifestare proprio davanti alle loro scuole per dire cose semplici ma sostanziali noi vorremmo semplicemente tornare a scuola e che ci venga garantito il nostro diritto all'istruzione una volta risolto la problematica principale dei mezzi quindi mandando dei finanziamenti a quello che come dire sono i mezzi di trasporto pubblici si risolva gran parte del problema in realtà crediamo che sia tutta una questione organizzativa che gli studenti faranno la loro parte in questa situazione chiedono di tornare a studiare tra i banchi ma in sicurezza e accanto a sostenerli hanno genitori e insegnanti la didattica a distanza non può più funzionare ribadisce anche oggi il ministro dell'istruzione loro i ragazzi lo dicono a modo loro non vogliamo spegnerci davanti a un computer e c'è un'altra notizia che riguarda la sfida della pandemia e annessi e connessi in uno studio dell'università statale di Milano con il ritrovamento evidentemente di ciò che l'ha potuto comprovare e si è potuto ristabilire che il primo paziente che era stato contagiato dal covid in Italia era a Milano il 10 novembre del 2019 il coronavirus probabilmente già girava nel nord Italia in Lombardia nell'autunno del 2019 a novembre tre mesi prima del caso del paziente 1 di Codogno secondo un rapporto dell'università statale di Milano pubblicato sul British Journal of Dermatology il primo caso di covid sarebbe una donna milanese 25 anni che ha avuto soltanto una dermatite un'orticaria curata al policlinico la donna non ha manifestato altri sintomi niente febbre né tosse né perdita del gusto o dell'olfatto la contrazione del virus è stata poi confermata dalla presenza degli anticorpi nel sangue della donna le patologie della pelle sono presenti nel 5-10% dei pazienti contagiati dal covid Raffaele Gianotti è il ricercatore che ha studiato il caso e come dice lui ha trovato le impronte digitali del coronavirus nella biopsia della paziente le impronte digitali che abbiamo trovato non sono altro che i residui del genoma della SARS-CoV-2 cioè pezzi di RNA del virus che sono situati all'interno delle ghiandole sudoripare quindi sono dei residui delle scorie virali che il nostro organismo probabilmente emette con il sudore una volta che il virus è stato eliminato dal corpo come in tante altre malattie virali presenti in passato e conosciute in passato anche il covid-19 può manifestarsi solo con segni con malattia cutanea senza nessun altro sintomo particolare sistemico il rapporto quindi retro data di qualche mese l'inizio del contagio ancora prima della comparsa ufficiale del virus a Wuhan le autorità cinesi avvisarono l'OMS dei primi casi della malattia il 31 dicembre 2019 la prima vittima ufficialmente nell'Ubei sarebbe stata la gennaio uno studio dell'istituto nazionale dei tumori di Milano nei mesi scorsi aveva sostenuto che il virus era in Italia già nell'estate del 2019 nelle acque di scarico della rete fognaria di Milano di Torino sono state trovate tracce del covid già alla metà di dicembre del 2019 e ora siamo all'appuntamento che ritorna con il data room di Milena Gabanelli su un tema che ci riguarda quasi tutti stiamo affrontando due crisi sanitarie e in entrambe il ruolo del digitale è cruciale da un lato i danni economici da pandemia sarebbero ben maggiori se alcune attività non si fossero trasferite su internet dall'altra il riscaldamento globale responsabili gas serra che devono essere diminuiti e la transizione al digitale certamente aiuterà l'ambiente ma non è affatto automatico la produzione di energia elettrica emette CO2 l'universo digitale consuma molte risorse e molta energia nel 2008 ha contribuito con il 2% delle emissioni globali di gas serra nel 2020 siamo al 3,7 per arrivare all'8,5 nel 2025 tanto quanto il totale delle emissioni globali dei veicoli leggeri e si stima che l'impatto nel 2040 arriverà al 14% per avere un'idea ricaricare la batteria di uno smartphone consuma soltanto 4 kWh all'anno questo è quello che vedo e pago in bolletta ma guardare 10 minuti di video in streaming consuma almeno 100 volte di più occorre trascorrere 5 ore a scrivere e a inviare email per generare un consumo analogo questo perché le infrastrutture digitali invisibili consumano moltissima energia per funzionare ma siccome questo io non lo vedo e non lo pago direttamente penso che questo consumo non ci sia le app che utilizzano la geolocalizzazione generano un flusso di informazioni continue ogni volta che ti sposti il traffico dati poi esplode con l'internet delle cose della videosorveglianza il tracciamento pacchi trasporti fin anche con la cintura che comunica al medico che hai messo su un chilo sta di fatto che i dispositivi connessi nel 2018 erano un miliardo e due arriveranno fra tre anni a 4 miliardi e 4 e tutti questi dati viaggiano sulla rete internet è più pesante il flusso e più consuma per approdare nei data center dove vengono immagazzinati analizzati creati servizi digitali che poi utilizziamo da remoto in cloud una nuvola che nessuno sa dove sia e di etereo non ha proprio niente sono giganteschi computer giganteschi processi che consumano gigantesche quantità di energia e producono gas serra se non provengono da fonti rinnovabili addestrare un'intelligenza artificiale a comprendere il linguaggio naturale come dove è stato sconfitto il corso più famoso emette anidride carbonica 5 volte superiore a quella di una vita media di un'automobile produzione inclusa in sostanza lo sviluppo digitale dovrà valutare l'impatto netto fra le emissioni evitate e quelle prodotte per fornire un servizio immateriale risparmio un viaggio aereo perché faccio la videoconferenza quindi evitando di aggiungere anziché togliere per ottenere un solo bitcoin serve tanta energia quanto quella usata in due anni da una famiglia media americana i data center stanno in zone come la Mongolia dove l'energia è prodotta dal carbone i bitcoin sono molto usati per riciclare e pagare riscatti bentornata Milena buon anno te lo dico ufficialmente anche se ce lo siamo già detti in privato ma allora dobbiamo temere il come dire quello che ci sembra illusoriamente forse più in realtà eco compatibile cioè fare fare un incontro a distanza col web invece di prendere un treno un aereo l'automobile in realtà poi sarà più inquinante no sicuramente se io evito un viaggio aereo perché faccio la videoconferenza è chiaro che ho evitato un impatto molto grande se però io utilizzo lo stesso lo stesso tempo che risparmio per prendere un aereo e farmi una vacanza non ho risparmiato niente certo allora la questione è che ci vorrà come dire una nuova buona pratica dell'ecologismo rapportata a questa fase in cui il web è una necessità e dovremo oppure si potrà anche cercare di imporre ai produttori qualcosa di meno inquinante anche nel settore beh intanto bisogna poter misurare questi consumi oggi questo non è possibile sono disponibili soltanto delle stime e su alcune operazioni quindi poterlo misurare è sicuramente un passo indispensabile vista l'esplosione di internet visto che sempre di elettricità si tratta quindi bisogna sapere da che fonte proviene l'elettricità che viene usata e su questo bisognerà predisporre delle precise clausole clausole per i servizi informatici in cloud dove i fornitori devono dichiarare da quali fonti energetiche si approvvigionano l'altra cosa è favorire la ricerca interdisciplinare fra le varie discipline appunto quelle ingegneristiche informatiche quelle dell'informazione per arrivare a definire metriche e standard di sostenibilità condivisa e poi qualcosa possiamo fare anche noi insomma cambiare un po' meno spesso dispositivo uno smartphone ha una vita media di due anni basta pensare il consumo di risorse per produrlo il consumo di risorse necessarie per smaltirlo perché più un oggetto è miniaturizzato e più risorse richiede proprio poi anche nella sua fase di riciclo non mantenere delle app inutili che si aggiornano in continuazione e generano dei flussi di consumo di cui non ci rendiamo nemmeno conto e poi insomma un po' meno compulsività nel inviare immagini e video questo possiamo decidere di farlo anche noi stai guardando me va bene sto guardando te chissà cosa ci si immagina posso anche guardarmi da sola volendo va bene e lunedì prossimo già lo sai questa volta già lo sai di la verità lunedì prossimo cosa c'è vabbè ci lasci nel va bene ansia si è creata ansia non lo so che non è inquinante va bene grazie grazie Milena lunedì prossimo a riederci dopo di noi Lilli Gruber a otto e mezzo ospita Lina Palmerini Andrea Scanzi Pierluigi Bersani Giuliano Guida Bardi ci fermiamo allora vediamo subito le borse Milano ha chiuso con un meno 0,32% è la vicenda Trump che un po' deprime le borse e anche del resto quella americana Dow Jones meno 0,40% Nasdaq meno 1,15% ma va sottolineato il tonfo di Twitter proprio il social network che come si sa ha cancellato Trump che era stato peraltro il suo più grande utilizzatore dalla Casa Bianca meno 5,32% per il titolo dell'uccellino 5,80% allora è tutto Gruber ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti